Ciao ragazzi, qui Giuliano Danieli dagli uffici di Prima Posizione. Se non mi conosci, maschietto o femminucce che tu sia, ti do il benvenuto. Questo è il mio canale dove parlo di vendite, marketing e online marketing, che sono le tre materie che studio da tantissimo tempo. In questo video in particolare, non so se vedi dietro, c'è scritto Jordan Belpro, Giuliano e Danieli, sono una serie di video che sto lanciando dove vado a commentare con i sottotitoli in italiano, vado a commentare alcuni video che io ritengo interessanti del mio amico e partner Jordan Belfort, con cui tra l'altro stiamo organizzando un evento, lui verrà in Italia alla Sales Master University, si terrà a maggio di quest'anno dal 26, 27, 28 e 29, quindi saranno quattro giorni molto intensi. Se non mi conosci, mi raccomando, iscriviti al canale, condividi i miei video, metti pollici su da tutte le parti, così facciamo in modo che questi video arrivino a più persone possibili. Di cosa parliamo oggi? Oggi andiamo a vedere un video che dura 4-5 minuti di Jordan, di come superare il filtro. Allora, il filtro potrebbe essere la classica segretaria che tu trovi magari in azienda, fai una telefonata e tu chiedi di una persona, buongiorno, vuole parlare con Mario Rossi? E la segretaria, dall'altra parte, siccome ha il compito di filtrare, dice, ma di cosa si tratta, che cos'è? Allora, per superare il filtro, quello che consiglio io è fare la vendita prima al filtro, poi vedremo cosa ci suggerirà Jordan Belfort. Però Giuliano e Danieli, le cose che insegna per superare il filtro sono sostanzialmente che quel filtro deve diventare tuo amico, deve diventare tuo alleato. Poiché hai bisogno di lui per arrivare alla persona con cui vuoi parlare, il filtro deve essere per te, il primo obiettivo, deve essere la persona più importante della telefonata, soprattutto quando fai la prima telefonata. Quindi, mi raccomando, appena la segretaria filtro, risponde dicendoti nome e cognome, riprendi nome e cognome, ah, buongiorno Stefania, ho bisogno del suo aiuto, per cortesia, io sto cercando il signor Mario Rossi, però non riesco mai a trovarlo, ho una comunicazione importante da fagli, mi occupo di questo e quest'altro. So che lei è lì addetta alla segreteria e sicuramente conosce meglio di me il signor Mario Rossi, quindi sono certo che lei possa aiutarmi. Quindi chiedete, chiedete aiuto, perché in realtà è vero, cioè avete bisogno di aiuto da parte di quella persona per arrivare alla persona che poi comprerà o deciderà sul vostro prodotto o servizio. Quindi ragazzi, la prima venta va fatta al filtro, cioè alla persona che risponde al telefono. Dovete diventare amici, amici, amici di quella persona lì, dovete farla sentire importante, dovete chiedere aiuto. Ovviamente dovete farla sentire importante e chiedere aiuto in modo sincero, non potete fare una telefonata con una messa in scena, cioè dovete proprio fargli percepire che avete bisogno del suo aiuto per arrivare alla persona che vi interessa. Ricordatevi che le segretarie sono le persone più importanti dell'azienda. Perché ragazzi? Perché conoscono tutto di tutti, cioè 9 su 10 quelle persone, la segretaria o segretario, maschio o femmina, indifferente, conoscono tutto dell'azienda. Quindi prima ve le fate amiche e meglio è. Andiamo a vedere comunque cosa ha da raccontarci oggi il nostro amico Jordan, quindi come superare il filtro. Let's talk about the lean and mean, fast cutting way to get through the gatekeeper, okay? Very simple. I perfected this back in the late 80s. It still works like a chonks. I've used it of companies in the last five years, okay? Basically, you want the gatekeeper to think that you're a personal friend of the person you're calling. That's it. All right, guys? And I don't mean that unethically. You're not going to lie. You want everything you say, everything you do, meaning your demeanor, your voice, your tonalities, the way you approach the call, your confidence, how you position yourself as an expert, it's all designed that the gatekeeper would think that maybe he or she should put you through because you're a friend or a contemporary of the person. That's the bottom line. So if I'm calling for a CEO of XYZ Company, his name is John Smith, I will not call and say, and say, hi, I'm looking for Mr. John Smith, please. The second you do that, there's inequivocally no dispute in the mind of the gatekeeper. This is a sales call. You're looking to sell the guy some shit, and their job is, they are there to keep you out. Now, some people will tell you that are just full of shit in the sales world. No, they're there to screen out which sales offers are right. That's a load of shit, guys. I bid on the other side. I'm the CEO. I tell my people, don't put any sales. I don't want to speak to them. Again, I don't want to speak to them. If they get through it, they got to do it ingeniously. They're not going to get through my assistant. Okay? I don't want to hear about it. I'll go to someone else first. Go to a lower level first and work their way up. So the point is, if you want to get through to it, if you really want to get through to someone, you've got to position yourself as not a salesperson. So watch. I call up Mr. John Smith and say, hey, is John there? That's it. Hey, is John there? Hey, John, please. Hey, let me see the John, please. In other words, everything. What did I do there? No magic words. It's just like, hey, John, how would you call and speak to your friend? If your friend worked at a company, you were calling your friend, what would you say to his secretary if you never spoke before? Say, hey, let me see the John, please. Hey, is John there? You would say, hello, hi. I'm looking for Mr. John Smith, please. It's Jordan Belville from XYZ Security. You would never say that. So you want to position yourself as a friend or personal acquaintance of the CEO, all right? Now, the key here is in the silence. In other words, what happens is, it's one of those questions where, you know, whoever speaks first loses. So you call up a gatekeeper, they say, hi, Mr. Smith's office. Say, hey. Ok, quindi, Jordan si dice, ragazzi, per superare il filtro cercate di comportarvi un po' come un amico e quindi di fare una richiesta estremamente veloce. Lui fa l'esempio. Ehi, c'è John? John, per favore. Ok, quindi, sembra che quella persona lì la conosciate. Ora, questa cosa qui potreste usarla inizialmente, quindi va benissimo questo suggerimento di Jordan. nel momento in cui il filtro ti bloccasse, perché lì fuori non è che ci sono segretarie stupide, anzi, sono molto intelligenti, molto preparate, quindi c'è Mario? Ehi, Barbara, c'è Mario? Ok, c'è Mario? Detto così potrebbe funzionare. Se non funziona, gli agganciate il pezzo che vi ho detto io all'inizio del video. Quindi potreste provare o ad usare il pezzo che vi ho suggerito io all'inizio del video, oppure potreste provare questo pezzo che ci suggerisce Jordan Belfort, se la segretaria filtro ci blocca, utilizzate la seconda parte che vi ho suggerito io. Io, nella mia esperienza, ho visto che tipicamente quando la segretaria viene coinvolta, quando il filtro, diciamo, capisce che per lui sia importante, capisce che all'interno dell'azienda ha un ruolo specifico, nove volte su dieci diventa un collaboratore incredibile, e quindi vi aiuta e spesso vi dirà guarda Giuliano, ti conviene chiamare martedì dalle alle, perché martedì dalle alle sono sicura che lo troverai in ufficio. Quindi non chiamare mai il giovedì, non chiamare mai il mercoledì, ma chiama in questo orario. Ecco, magari lì potreste anche usare un po' di più chiedendo al filtro di preannunciare che avreste chiamato, ok? Hey, is John there? They'll say, who's, and you say, well, who's calling? Oh, it's Jordan. That's it. Jordan? Nothing else. They'll be like, oh, what the fuck? Jordan? Oh, Jordan, he'll know what, he'll know what it's referenced to. That's it. Now you're saying, well, aren't they pissed at you if you, if they said you, they knew what it was about? No, they just won't. I'm doing this a million times. And just so you know, the amount of extra people you get through, ok, by doing that, and again, I don't want you to lie. I want you to say, you know, it's personal business, ok, you know, try to, I hate, guys, I gotta be, I hate saying anything here that could be being misconstrued as being unethical, but the bottom line is you gotta be a little bit cagey with these people because they're being cagey with you. You get it? They're designed, they're there to thwart you. they're not your best friend, ok, now in some situations when you, as a last resort, you'll go that route as well, especially, you know, high ticket business, but if someone's teaching that's what they do, they're just plain wrong. It doesn't work. It'll be nice in a bubble world, but in the real world, the sales, that's not the way it goes because any well-trained gatekeeper is designed to keep you out, not if you befriend them, that they'll let you through. Ok, quindi ragazzi, per riassumere, provate a passare il filtro presentandovi semplicemente come un amico. John, per favore, Mario, per favore, anche vorrei parlare con non è tanto amichevole, vorrei parlare con potrebbe far scattare le antenne al filtro. Cercate di usare quei sistemi amicali che ci ha proposto Jordan, ok? Se non funziona, provate ad usare il mio che è un po' più articolato, però è più sincero. Jordan effettivamente dice mi raccomando, cercate di essere etici. Chiaramente, però, se usate questo stratagemma, Mario per favore, ok, e magari quel Mario lì effettivamente non lo conoscete, dovete trovare un escabotage per essere comunque congrui con voi stessi, ok? Quindi dovete, che ne so, dire come suggeriva Jordan, se la segretaria vi dice ma di cosa si tratta? Ma affari personali, ok? Affari personali è vero, non state dicendo una cazzata, quindi potreste usarlo. dal canto mio, io sarei ancora, cioè preferisco essere ancora più lineare, ancora più sincero, proprio chiedendo al filtro dall'altra parte aiuto, quindi dai, guarda, sono Giuliano Daniele, mi occupo di questo, di questo, di questo, di questo, di questa persona, tu sicuramente la conosci meglio di me, quando è che la potrei chiamare? Per cortesia a Maria, non dirmi di mandare una mail di presentazione, perché so che poi le mail di presentazione non vengono lette, perché questa cosa la dici a tutti quanti, quindi per piacere dammi una mano, vedrai che ti farò fare bella figura con Piero, quindi dammi una mano, quando è che posso chiamare, quando è che mi suggerisci di chiamare? Ma guarda Giuliano, chiama lunedì mattina o venerdì pomeriggio, ti ringrazio tantissimo Barbara, grazie, senza di te non avrei saputo come fare, ok? Ecco, quindi siate proprio onesti, sinceri, è vero che avete bisogno dell'aiuto del filtro, per arrivare alla persona che vi serve, quindi perché non dirlo, perché non utilizzarlo per ottenere i favori di chi sta dall'altra parte e anche per farlo sentire importante, magari anche anticipando una possibile obiezione, cioè della serie Maria, Mario, non fammi mandare la mail di presentazione, però che tanto sappiamo che le mail di presentazione vengono sistematicamente cestinate, oppure io posso anche mandarti la mail di presentazione, però dimmi quando è che posso chiamarlo, quando è che posso trovarlo, guarda una cosa davvero importante, vedrai, non te ne pentirai, è una cosa assolutamente interessante per la tua azienda, ecco, quindi cercate di fare la vendita in primis al filtro, ok? Quindi non pensate alla persona che dovete incontrare, quindi prima devo fare la vendita al filtro, una volta che il filtro mi passa alla persona, devo fare la vendita dell'appuntamento alla persona che esendo telefonicamente a quel punto là poi quando andrò in trattativa farò la mia trattativa. Bene ragazzi, per il momento è tutto, miliardi di ponici su e ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie a tutti!